un po più di vitalità nei miei vlog però allora buongiorno dici che non sono vitale è vero quando saluto comunque stiamo andando al centro commerciale dell'ingotto l'ottogallery a vedere l'ottogallery a vedere Jurassic Park non vediamolo ora stiamo aspettando l'autobus e niente ci faremo prima un giro perché se non erro lo spettacolo è tipo alle 5 meno 10 quindi facciamo un giro mangiamo qualcosa perché non abbiamo pranzato giusto per l'occasione ho messo questi occhiali qua che sono quelli che mi aveva mandato per gratis la firmo e sono molto carini e non li ho praticamente mai messi ancora messi due o tre volte mi piacciono anche perché finora sempre diluviato esatto però devo dire che questo colore qua è molto più estivo rispetto ai classici neri quindi mi piace ma lo sapete che lei si chiama fu per un motivo eccolo lì ma no dai hanno messo mac hanno messo mac da Douglas pensate hanno aggiunto una parte la c'è il cinema adesso andiamo laggiù lo so mi rendo conto che facciamo già i biglietti così poi giriamo ci piace la tudea ci piace ci piace a me così poi ci leviamo la rottura di scatole dopo e poi vi portiamo con noi a vedere il centro commerciale e a mangiare aspetta sempre a quella amore ora si obiettivamente che ora è amore non abbiamo pranzato sono le tre meno un quarto quindi è il caso di pranzare eccoci allora abbiamo preso io ho preso macchicken menù con patatine coca cola zero poi abbiamo preso i mac bites le mozzarelline poi patatine con formaggio bacon poi qua il suo menù col big mac buon appetito allora ragazzi io ho un trauma per questo gioco qua guardatelo bene quello che si usava negli anni 90 ci giocavo da bambina e un giorno l'ho cercato e sparito infatti quando l'ho visto li ho detto lo voglio me lo compro un trauma un trauma infantile vabbè niente noi ci stiamo facendo un giro nel negozi giocattoli sapete che ormai è una tradizione cosa stai facendo cosa stai facendo praticamente oddio ho un collega che cerca questo è altamente partito a livello estremo di dragon ball c'è la tavola adesso ti giro la foto che così mi direi scriverà me lo compri andiamo di qua vai è tutto in sistema riavvia ci sto provando finito non si vede un cibo riusciamo riusciamo bello bello c'è da ammettere che è bellissimo ok si aspettate che è un po' buio no non è vero è diverso in segno aspetta grazie prego grazie bello ci è piaciuto tanto tanto andate 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 cosa sta facendo te l'ho già fatta la fotina te l'ho già fatta e poi guardate qua oh guarda quella di pretty little liar bellissimo per non parlare della faccia di lei veramente un bel film bellissimo eccoci qua siamo passati anche al pub a bere una cosina e poi mi hai preso un attacco di fame nera 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 oh guarda oh guarda oh guarda Grazie per la visione!